preghiera al beato piergiorgio frassati beato piergiorgio guidami nel pretendere la legittima eredità di figlio di dio ed erede del suo regno mostrami con il tuo esempio come essere lento all'ira e delicato nei miei rapporti con gli altri aiutami a comunicare la pace di cristo pronunciando parole di pace e vivendo la vita nella pace beato piergiorgio chiedo la tua intercessione per ottenere da dio che è mite ed umile di cuore tutte le grazie necessarie al mio bene spirituale e temporale con fiducia ti chiedo aiuto in questo momento si formula la richiesta il bisogno l'intenzione la grazia che si vuole mettere nelle mani del beato piergiorgio perché interceda per noi presso dio beato piergiorgio frassati prega per noi grazie a tutti 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 grazie a tutti